Passiamo a Mitt Romney e vediamo allora chi è l'altro sfidante di questo super martedì, ex governatore del Massachusetts, l'uomo che può fare passare agli Stati Uniti una nuova novità, dal presidente afroamericano Obama ad un presidente, se sarà eletto, mormone. Macella allungata, sorriso da sottopera, fascino e portafogli del milionario. Comincia da qui la corsa alla Casa Bianca per Mitt Romney, da questa immagine di candidato perfetto che vince ma non convince. Un feeling forse distante dalle sue velleità, anche se in realtà la sua anima politica ed umana resta un mezzo rebus che di evidente ha solo l'assonanza con la carriera del padre. Lui ex governatore del Massachusetts, il padre ex governatore del Michigan, lui ex boss del fondo Bain Capital, il padre top manager dell'industria automobilistica, lui che sfida Santorum, il padre che nel 1968 sfidò Nixon perdendo dopo essere stato a lungo il frontrunner di quelle primarie. Mormone convinto, osservante del dogma, ma con il bisnonno accanito difensore della poligamia, uomo di destra ma che da giovane ha fatto volontariato in Francia, ligio al dovere ma con i risparmi personali messi al sicuro in fondi sparse tra le Cayman e la Svizzera. Sposato, cinque figli, tutti maschi. Mitt Romney porta il peso dell'eterno numero due anche sulla scelta di usare sempre e solo il suo secondo nome. Accusato di essere un tagliatore di teste nei suoi comizi, parla con disinvoltura di licenziamenti. Bocciò il piano di salvataggio dell'auto voluto da Obama, ma è andato a Detroit a cercare il voto degli operai senza far mistero delle splendide Cadillac che tiene in garage. Intanto Mitt va avanti, spinto da milioni di dollari di una campagna elettorale che dopo il flop del 2008 non può permettersi di perdere. Il suo menù preferito mette alla pari carne e pesce, un po' come quel sorriso che sfoggia a chiunque incontri.